2, 1, vizio! 2, 1, vizio! 2, 1, vizio! 3, 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 2, 1, vizio! 4, 2, 1, vizio! 4, 2, 1, vizio! 4, 2, 1, vizio! 4, 2, 1, vizio! 5, 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 1, vizio! non intracciare tutti a me sto a me no lo prendi a me e e rimani dietro la linea grazie spazio anche agli compagni e agli avversari grazie rispetto rispetto agli avversari lasciate lo spazio non supera la linea grazie ragazzi spostatevi sono passati due minuti se vi interessa la linea grazie sono passati quasi tre minuti ma calma 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 vai a prendere bravo Vincenzo e non la pietra qui sei vai non serve che arrivi prima se la pietra bravo Vincenzo vai vai non voce non prendere la pietra c'era Chiani c'era il piede bravo Vincenzo e bravo Vincenzo e bravo bravo Vincenzo e bravo bravo Vincenzo e bravo bravo Vincenzo e bravo non vi scontrate nella scelta vai va via via là Allora va. vanno w tirano drei minuti appito ok vannoiem se tu non vasci findings poco Vito! Vito 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 Vito! Sì, è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 40 secondi. 30 adesso. 25 secondi. 25 secondi. 25 secondi. 25 secondi. 20 secondi. 18 secondi. 20 secondi. 2. 1. Fischio. Si va. carico d'acqua effettuato sia per Picerno che per Sacriano la strada si strisce, i nostri portatori d'acqua si ritrovano in un corredore di gente che ci vintenta e si lascia passare, ma soprattutto per accompagnarsi, si lascia passare Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti